La Regione Emilia Romagna continua ad aiutare il paese di Montegallo in provincia di Ascoli Piceno, duramente colpito dal terremoto del centro Italia. Dopo aver costruito una vera e propria cittadella con container, municipio, scuola, chiesa, ambulatorio e altre strutture di primaria importanza, ora con il supporto della protezione civile provvederà ad allestire un'area commerciale per consentire alla popolazione di ritrovare la quotidianità perduta. Bisogna ripartire con le attività commerciali, quindi il prossimo passo sarà questo, sarà di far ricominciare a lavorare tutte quelle attività che dopo il 30 si sono fermate e alcune addirittura dopo il 24 sono già ferme, quindi sono parecchio tempo che sono fermi, il loro reddito è tirato avanti nel periodo estivo, nel periodo del turismo, ma anche durante l'anno, perché durante l'anno c'è movimento nel nostro comune, abbiamo tantissime possibilità, dal trekking, dicevo prima, ma anche nel periodo di ottobre con le castagne, con funghi, con tantissime iniziative. Quindi diciamo la prima parte è quella adesso in questo momento di aiutare tutte le attività a ricominciare, quindi questo centro che verrà realizzato sarà proprio per loro e far ricominciare tutto il movimento del bar, dell'alimentare, dei ristoranti e sarà tutto qui, insomma, questo è il prossimo passo che stiamo portando avanti. Grazie.